Ciao cari amici, prima di fare gli auguri di Buon Natale e Felice Ano Nuovo, voglio ringraziare tutti coloro che hanno voluto cucinare il napoletano ai loro eventi e a tutti coloro che hanno voluto cucinare il napoletano alle loro trasmissioni tv. Voglio fare un grandissimo ringraziamento a tutti tutti voi, un vaso al piccolo Carlo e alla piccola Angela Esposito e consentitemi un abbraccio forte a tutti tutti i bambini ammalati da parte mia, cucinare il napoletano e papo Natale il vero, vi dico grazie e vi do un abbraccio fortissimo e un augurio di un felice Natale e un strepitoso Ano Nuovo e tantissimi amuri a cucinare il napoletano. Ciao